Un fazzoletto di terra al di fuori dell'edificio carcerario che è stato utilizzato per far trascorrere del tempo all'aperto ai detenuti. E' nato così il progetto Galeorto. I carcerati del penitenziario di Ariano Erpino hanno preso dimestichezza con l'agricoltura. Hanno imparato a curare coltivazioni di vario genere. Alcuni di loro avevano già competenze, mentre altri si sono rapportati alle diverse fasi via via. Da marzo a giugno sono state emesse a dimora sia piantine sia semi di erbe aromatiche, fiori, ortaggi, alberi da frutto. E ai corsisti sono stati mostrati diversi metodi di coltivazione. I responsabili volontari del progetto sono stati la professoressa Eleonora Piccariello del liceo artistico Ruggero II, l'agente Filippo Bertinetti, con la collaborazione volontaria dell'agente Mauro Schiavone. Un progetto per la socialità, per l'apprendimento pratico, ma il contatto diretto con la natura ha avuto il merito di ristabilire un equilibrio benefico sulla psiche, sulla mente, sullo spirito, arricchendo così le percezioni, l'apprendimento e la moralità. Galeorto è un'altra iniziativa che distingue la casa circondariale di Ariano Erpino guidata dal direttore Gianfranco Marcello. Lo stesso con gli operatori dell'area educativa ha reso possibile la realizzazione di questo progetto, insieme anche a dei volontari che attivamente si sono prodigati per mettere a disposizione le attrezzature e la materia prima.